Exoraptics, benvenuti! Oggi siamo qui a presentarvi questo nostro nuovo arrivo. Si tratta di Opel Insignia ST con motore 1.6 da 136 cavalli, chiaramente diesel, in questo allestimento Innovation. La colorazione è una Dark Boom Blue, molto elegante. Notiamo sia sulla parte frontale sensori parcheggio anteriori, cerchi in lega da 17 pollici. L'avventura adatta all'utilizzo, chiaramente, per famiglia, per viaggiare, ammante l'utilizzo di tutti i giorni, è molto molto comodo. Troviamo un sensori parcheggio anche nella parte posteriore, bagagliaio apertura elettronica, come vediamo. Qui abbiamo una capienza di circa 490 litri. Passiamo all'interno dell'abitacolo. Come possiamo notare, ampio spazio per i passeggeri, questi bellissimi interni in tessuto e pelle. Qui abbiamo attacchi Isofix, cristalli elettrici, abbiamo un bocchettino dell'aria e anche una presa per la ricarica del nostro smartphone. Passando invece alla posizione guida, ampio spazio anche per chi guida. Qui abbiamo sulla sinistra del nostro volante i nostri comandi di limitatore, di velocità e cruise control. Qui sulla destra invece tutto quello che riguarda la regolazione del volume e del nostro menu, del nostro infotainment. Cambio automatico sequenziale e climatizzatore automatico. Qui abbiamo il nostro schermo dove poter utilizzare anche il nostro navigatore. Questa, come tantissime altre nostre offerte, le potete trovare sul sito rattix.com e anche il nostro qui appartiene la regolazione del nostro canale.